Ciao a tutti, sono sempre io, Multicarmine10, e ora vi mostro le mie carte che sicuramente vi scambio. Allora, vi scambio questo Pidav con un Tranqui, questa Ricerca di Energia con uno Scambio, con una carta Scambio, questo Venipid con un Whirlipid, questo Jolti con un Galvantura, questo Simisier con un Pansic, questo Dirling con un Susbuck, forma Primavera, Lillipup con Herdier, Blitzel con un Webstrike e Ducklet con Juana. Bene, alla prossima. A domani o stasera con i prossimi pacchetti. Votate, commentate, iscrivetevi, da Multicarmine10. Ciao! Ciao!